Vittoria Liuzzo, 24 anni, studentessa universitaria, al secondo mandato consigliare consecutivo, è stata eletta presidente del Consiglio Comunale di San Fratello. Previsioni rispettate dunque nella seduta di insediamento, con la convergenza dei voti del gruppo di maggioranza, compatto su Vittoria Liuzzo, che ha ottenuto 10 preferenze. I 5 voti d'opposizione sono invece andati ad un altro consigliere di maggioranza, Bettino Bosco. L'Assemblea cittadina si è invece espressa all'unanimità nell'indicazione del vicepresidente individuato nell'agrotecnico Filadelfio Zino. Nel corso della seduta di insediamento si è registrata anche la surroga di uno dei due assessori designati da Fulia ed eletti in consiglio, Merighitti, che ha lasciato il suo posto al primo dei non eletti, Antonio Scianò. Resta in consiglio invece l'assessore Ciro Carrocetto, nominato anche vice sindaco. Io sono il presidente di tutti, il presidente del consiglio comunale e il presidente del popolo. Questa è una cosa fondamentale, questo è un momento storico per San Fratello, dove oggi più che mai c'è bisogno di tutte le forze politiche. Penso che è un consiglio comunale giovane, formato da persone quasi tutti coetane miei. Mi ritrovo infatti ad esprimermi in consiglio comunale con persone che condividono principalmente le mie stesse idee. San Fratello ha bisogno di ricostruirsi, ecco come diceva il nostro slogan elettorale, ricostruiamo San Fratello. Ha bisogno di ricostruirsi non soltanto dalla frana del 2010, ma anche da un punto di vista culturale. Siamo molto soddisfatti, abbiamo fatto una bella giunta, tutta gente seria, preparata, professionale, che copre dei ruoli che sono attinenti alla propria professionalità.